Carabrese, prego Consigliere per dieci minuti, ne ha facoltà. Grazie Presidente, una piccola premessa. Ho conosciuto una persona molto bene che ha avuto il problema di questa patologia, che ha descritto perfettamente la collega Seccia. Ho conosciuto anche le dinamiche familiari di questa persona, una persona che continuava a ripetere in famiglia che avrebbero risolto i propri problemi relativi all'immobile, relativi al sostentamento della propria famiglia, attraverso il gioco e anche il gioco d'azzardo. Una persona che poi nel tempo, purtroppo, è finita anche in altri problemi, insomma, legati a abuso di alcol. Una persona che probabilmente non aveva quella struttura per poter, come ha detto perfettamente la consigliera Seccia, costruire un'identità e su quella portarsi dietro un altro tipo di costruzione della propria famiglia. Lo voglio dire perché di queste persone, immagino, il nostro territorio, non solo comunale, insomma, ce ne sono tante. Ci sono dei dati, insomma, no? Riferiti rispetto a quanto spende lo Stato in cure per quello che riguarda questo tipo di patologie, che comunque, insomma, rappresentano un investimento collettivo importante. Ora io mi chiedo per carità, no? Ammesso che non concesso che si sia copiato un testo, ma immaginate se negli anni un'amministrazione avesse copiato i testi più virtuosi e li avesse attuati nel proprio territorio. Quante situazioni come queste avremmo aiutato a evitare di decadere in un circolo bizioso con sconvolgimenti, a volte anche molto gravi a livello familiare, con dinamiche che poi ricadevano spesso anche sui figli, non è... Adesso non voglio fare la morale, però mi dispiace, no? Che dobbiamo ogni volta trovare quel piccolo pretesto per cui, no? Allora, se dobbiamo trovare un pretesto diciamocelo, insomma, noi siamo stati governati in questa città da un sindaco che si chiamava Veltroni che quando era ministro della cultura incentivò il gioco per quello che riguarda Gratta e Vinci si ricordo bene tutta questa tipologia, no? Per sostentare a suo dire quello che dovevano essere i fondi destinati a la ristrutturazione e il recupero e il consolidamento del nostro patrimonio storico architettonico ecco, da quegli anni in poi io quando entro in una tabaccheria o in un bar trovo spesso una distesa di Gratta e Vinci ecco, questo è stato il cambiamento culturale che c'è stato in questa città e probabilmente in tutto il territorio nazionale quando invece esistevano delle norme che dovevano in qualche maniera dotare i territori di luoghi per fare in modo che i cittadini si incontrassero centri civici dove le persone potevano costruire insieme delle comunità invece è stato fatto in modo di convogliare queste persone in dei canali che poi hanno portato a quel tipo di situazione che ho detto prima e oggi venire a dire che si sta copiando uno strumento mi sembra un po' veramente ridicolo io capisco che la politica spesso ha bisogno di trovare questo tipo di però veramente andiamo avanti cerchiamo noi in dieci mesi uno dei primi provvedimenti che abbiamo lavorato è stato questo quindi sinceramente non capisco non capisco anche perché so che in regione dopo che la consigliera del 5 Stelle Valentina Corrado ha presentato un ordine del giorno in cui chiedeva appunto che la norma regionale fosse bloccata rispetto ai 500 metri di distanza un ordine del giorno al momento della votazione alcuni consiglieri del PD non erano presenti sono andati sotto e l'ordine del giorno è passato quando il presidente della regione aveva dato indicazioni negative rispetto a questo ordine del giorno quindi oggi capisco grazie votate anche voi favorevoli però cerchiamo ecco di essere coerenti perché il cittadino quando ha bisogno di soluzioni secondo me se viene preso in giro al di là del fatto che comunque non è una cosa bella poi chi paga le conseguenze è tutta la collettività grazie grazie